Il tema delle cosiddette baby gang resti fuori dalla campagna elettorale a ribadirlo e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris parlando con i giornalisti all'indomani del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza straordinario presieduto dal ministro dell'Interno Marco Migniti. Rischiamo nella nostra terra del sud di fare campagna elettorale anche con argomentazioni misere sulla pelle dei nostri figli. In mattinata il sindaco di Napoli aveva parlato di abbraccio politico misero tra Valente e Carfagna sul tema del DASPO. Mi auguro che le forze politiche impegnate nella campagna elettorale mettano al centro della loro campagna elettorale programmi seri e non propaganda o misere polemiche come ad esempio quella che ha unito in un abbraccio politico davvero misero la Valente e la Carfagna sul tema del DASPO che un po' impressiona perché persone che discutono e approvano o votano leggi e non sanno manco quello di cui parlano mi fa pensare che c'è un rischio davvero elevato che questa campagna elettorale la si voglia fare strumentalizzando cose che meriterebbero un grande rispetto e una grande credibilità istituzionale. Ma la risposta di Mara Carfagna non tarda ad arrivare. La miseria è la cifra dell'azione amministrativa e politica di De Magistris mentre dall'opposizione arrivano proposte su età imputabile Patria Potestà lotta alla dispersione scolastica che possono essere condivisi o meno da lui che avrebbe la responsabilità di governare la capitale del mezzogiorno partono invece solo invettive e aria fritta, specialità in cui eccelle.